Quello che si vede in foto è il fossile di una comune patella, un mollusco che si trova praticamente ovunque nel mare. Qui è rimasto imbrigliato in residui di carbone, pressati dal peso degli strati superiori e rinvenuto millenni più tardi in una miniera. Ora, la patella in oggetto viene venduta come occhio dell'aquila nel mercato dei sognatori di spiritualità nei negozi di oggettistica del ramo. Ovviamente se ci abbandonassimo la fantasia potremmo chiamarla anche occhio del maestro o chissà cos'altro, tanto altro, a scelta, qualunque cosa andrebbe bene. E questo fatto ha una grande importanza. Il sognatore dello spirito, cliente di una facile illusione, non vede il fossile della patella, ma il titolo che il venditore gli ha dato, vuoi per scaltrezza, vuoi per ingenua credenza. E chi non vorrebbe comprare un occhio di aquila per pochi euro, visto che il simbolo dell'aquila è l'occhio che tutto vede, l'occhio di Dio in persona. Così funziona anche il mercato dell'arte, il cosiddetto contemporaneo. Basta dare un titolo a quello che ci pare, che so, un cucchiaino da caffè infilato su un pezzo di legno. Mettiamo potrebbe essere di stacco dalla natura, ad esempio, ed hai fatto l'opera d'arte. Ovviamente si tratta di un cucchiaino da caffè, che senza il titolo non vale niente, ma l'ideologia su cui si basa il contemporaneo insiste a vendere l'idea, del tutto illusoria, che una volta che tu lo assembli in tal modo esso diventa arte. Non è infrequente il caso in cui le donne delle pulizie, nei musei di arte contemporanea, spazzino via le foglie secche attorno ad una sedia, violando una opera d'arte senza averne compreso la portata. Così si può constatare che chiunque vada ad una mostra di arte contemporanea non possa fare altro che due cose. Sognare una sua lettura dell'opera, dicendo io ci vedo, e così andare speculando a caso con la propria fantasia, il che vuol dire che l'opera non significa nulla, è del tutto relativa. Oppure il pubblico può leggere la spiegazione, la spiegazione dell'opera senza la quale le opere non parlano un granché di ciò che intendeva l'artista, evidentemente. Una eccezione va fatta per la bizzarria di molte opere, la quale colpisce spesso al primo impatto, pur non contenendo altro che un sogno, mai uno stato di coscienza di veglia di urna, mai la presenza di un pensiero consapevole, ma un vago immergersi in un'atmosfera lunare, crepuscolare. Questo è il sogno che vendono la bizzarria di molte opere. Un'atmosfera lunare, crepuscolare. Del resto, il potere, l'oligarchia che domina il mondo occidentale, ha voluto per decenni cancellare il significato delle opere d'arte, rendendolo relativo, come ho detto, quindi effimero, soggettivo, inafferrabile, allo stesso modo di come il potere vuole che sia chiunque si oppone al suo comando. Il cittadino che si oppone deve essere relativo, effimero, soggettivo, inafferrabile, inconcludente, sbagliato, strano, bizzarro, esattamente come le opere dell'arte contemporanea. Per questo motivo un dito medio alzato può trovarsi di fronte alla Borsa di Milano, l'opera famosa di Cattelan, ed essere del tutto reso innocuo dal relativismo culturale imposto ai cittadini del paese invece di provocarne la rivolta. Bingo! Il potere ci campa sull'arte contemporanea. Così come la patella diventa un occhio di aquila per il sognatore dello spirito, in un'opera fatta per chi fruisce dell'arte contemporanea qualunque cosa può diventarne un'altra. E tanto è tutto relativo, no? È evidente che come processo interiore qui si chiede alla coscienza di ritirarsi, di farsi indietro, di non accendersi allo stato di veglia, ma di restare nel sogno. Proprio come succede nel limbo dei media, dove milioni di spettatori ipnotizzati davanti a uno schermo sono chiamati a credere a qualunque cosa gli venga detta, descritta, raccontata. Sarà il titolo, sui media come nell'arte contemporanea, a fare la sostanza. Che voglio dire? Semplice. L'artista contemporaneo non può essere libero dal servire, volente o nolente, il potere anticoscienza. Le forze oscure, quelle anti-umane, anti-evolutive, cose. Tutto ciò che si oppone alla evoluzione spirituale dell'umanità, quell'artista sarà servendo, perché egli basa la sua opera nel mondo sul presupposto, come ho spiegato, di rendere ottusa la coscienza di chi fruisce del suo lavoro, di tenerlo in uno stato di sogno lunare, crepuscolare, di rendere nebuloso lo sguardo di chi osserva le sue opere, proprio come fa il venditore del fossile della patella, chiamando l'occhio dell'aquila. Ovviamente l'arte, invece, può collegare un'anima umana a sublimi regioni superiori dello spirito. Chi osserva la pietà di Michelangelo non ha bisogno di farsi spiegare come ciò sia possibile, come chi legga un libro, chi esca da una mostra o da uno spettacolo teatrale sappia di non essere più la stessa persona, di avere raccolto un pensiero, un'idea, che gli ha aperto lo sguardo interiore a mondi che prima gli erano preclusi. E l'arte, prima del contemporaneo, serviva proprio a questo, ad aprire lo sguardo interiore, a proiettare in un futuro, non prima immaginato lo spettatore, a spingerlo a cambiare pelle, a trascendere se stesso verso verità universali, ad imparare anche a riportarle nel mondo, a viverle, a renderle esperienza. Cioè l'arte serviva a suscitare facoltà di trasformazione, di evoluzione spirituale. Non è poco, eh? Ma il potere, le forze oscure, le forze anticoscienza hanno capito benissimo che l'arte vivente rende gli uomini sempre più consapevoli, sempre più desti, più liberi di autodeterminarsi, più coscienti dei grandi valori morali, il coraggio, l'onestà, la bellezza, la giustizia, l'amore, eccetera, eccetera. Per cui ha gettato il mondo, questo potere, nel suo veleno più mortale. Un sogno lunare in cui tutto è relativo e chiunque può dire di sé di essere artista e qualunque cosa può essere un'opera d'arte. Questo furto dell'arte è stato compiuto per tenere gli uomini nella cecità di una via di mezzo tra la veglia cosciente e le sublimi forze superiori che albergano come potenzialità da rivelare dentro le anime umane, per tenere l'uomo in un sogno crepuscolare. Eppure l'arte non appartiene al potere. Al potere appartiene solo il modo di insegnarla e di imporla agli artisti e al pubblico. E siccome nelle regioni sconfinate dello spirito l'amore è in perfetta fusione con la libertà, esisterà sempre un artista nuovo, ieri, oggi, domani, che farà risorgere dal basso ciò che dall'alto gli è stato sottratto. E quando dal basso tornerà a sorgere nelle opere, nelle opere d'arte, la libertà nell'amore, ovvero l'impulso che accende i cuori di chi da millenni fruisce dell'arte, impulso spirituale, vedremo l'attuale epoca oscura crollare, disfarsi come neve al sole e scomparire dall'orizzonte della storia.